A Ligera Stadium, sconto diretto per la zona salvezza tra i padroni di casa opposti al Pietracuta, sfida che tre stagioni prima vedeva giocarsi il campionato di prima categoria. Il Pietracuta, rispetto agli avversari, doveva recuperare la gara con la del Duca Ribelli, programma mercoledì 3 aprile. La tensione si vede come sul volto di Fregnani prima dell'inizio del match. Igea subito all'arambaggio, chiama da calcio piazzato l'area spinta Leardini, padroni di casa che insistono con Mema che da posizione favorevola dentro l'area piccola mette incredibilmente a lato. Pietracuta che replica con la punizione di Tazibai e sporcata dalla barriera di casa per la presa facile a questo punto di Berardi. Il Pietracuta insiste nella trama offensiva, qui è fratto a chiamare all'area spinta di piede Berardi. Lo stesso Fratti, l'attaccante in maglia numero 9, questa volta dalla parte sinistra offensiva va a prendersi questo calcio di pulizione di forza che lui stesso si incarica di battere, ma la sua conclusione sbatte sul retro di compagno terminando di un nulla al lato, alla destra di Berardi. Dalla bandierina è già pericolosissimo, bella vista va alla battuta, respinge la difesa di Pietracuta, l'azione prosegue con Mema che centra la traversa, con la palla che rimane viva in area di rigore, con la conclusione a botta sicura di Magnani ma Liardini respinge di piede. In calcio d'angolo termina qui il primo tempo sullo 0-0 sotto gli occhi del direttore di gara. Nella ripresa la conclusione di Tosi viene respinta in corner da Magnani, sul versante opposto il cross di Bocchino invita a nozze per Mema che di testa mette alto, primo piano meritato per l'attaccante dell'Igia Varina. Il Pietracuta agisce di rimessa, grande protezione della sfera di Fratti, apertura per Tassibai e che in corsa calcia malamente. Ancora Fratti protagonista poco dopo, questa conclusione che Berardi raccoglie facendo sua la sfera. La conclusione invece di Perini dopo un'azione insistita è fuori misura. Da punizione invece Liardini viene chiamato alla respinta ma termina qui una partita a barra di emozioni con le due squadre che hanno terminato la gara solo 0-0 puntando a un Parigio che muove la classifica con il Pietracuta che sarà chiamato fra tre giorni a rispondere in casa contro la del Duca ribelle.